Questo è l'impianto di produzione del mosto, il tino di miscelazione dell'ammostatore, il bollitore e il tino filtro. La produzione del mosto porta via circa 8 ore di lavoro, dall'inizio della mattina alle 8 fino a circa alle 4 del poveriggio, dopodiché il mosto viene passato nei fermentatori. Ne facciamo solo fermentazione alta, quindi la birra fermenta a circa 20-25 gradi, le fermentazioni durano, a seconda del tipo di birra, tra una settimana e le tre settimane e dopo questa fase la birra viene infustata e o imbottigliata. Abbiamo un imbottigliatrice che fa solo il formato di 33 cm e poi facciamo fusti, kick egg, use e getta.